Niente da fare, il mare non consente ancora di dare il via alle operazioni di dragaggio dell'imboccatura del porto di Viareggio. La draga Aurieldo, arrivata nella serata di martedì scorso nel porto di Viareggio, proveniente da Piombino infatti, è dovuta rimanere in banchina nonostante il cronoprogramma dei lavori indicasse quella odierna come la data di partenza dell'operazione vera e propria. Nei giorni scorsi sono state eseguite quelle preliminari con il posizionamento della tubatura galleggiante lunga 700 metri supportate anche da un metodo favorevole ma soprattutto da un moto ondoso quasi assente. L'alzarsi del mare però impedisce ad essa la draga di uscire per aspirare la sabbia del fondo, operazione che richiede la quasi totale assenza di onda. Secondo quanto prescritto dall'ordinanza della Capitaneria di Porto, i lavori dovrebbero prendere via alle 7 del mattino per terminare alle 16.30. Il fondale verrà dragato per 1200 metri dal faro verde ma ad oggi è difficile fare una previsione dell'inizio delle operazioni dato che il meteo indica mare mosso anche per i prossimi giorni. Rimane dunque solo lo stretto canale di fronte al falo rosso per entrare ed uscire dal porto Viareggio. Manovra non agevole ma non impossibile anche per imbarcazioni di notevoli dimensioni come testimoniato giovedì pomeriggio dall'uscita e rientro in porto della cura yacht battente bandiera delle isole Cayman distanza nella banchina Benetti della Darsena.